Potrebbe aver aperto la porta al suo assassino. È giallo sulla morte di Marco Ceriani, 65 anni, pensionato di Abbiategrasso, trovato morto ieri sera nella sua abitazione di via Cesare Battisti. Le prime indagini di Carabinieri, Polizia Scientifica e Procura di Pavia non escludono alcune ipotesi. Il medico legale si è riservato di dare una risposta solo dopo il risultato dell'autopsia che sarà eseguita mercoledì. La Procura però indaga per omicidio. Secondo i primi accertamenti, infatti, il corpo che giaceva sul letto presenterebbe lesioni alla testa. Bisognerà capire se sono colpi inferti da un aggressore o se invece il pensionato sia caduto. Marco Ceriani era una persona estrosa, gentile e conosciuta in città. Conduceva una vita tranquilla e riservata. Si può escludere con certezza che l'omicidio sia maturato nell'ambito della malavita organizzata, spiegano dalla Procura. Chi l'avrebbe ucciso farebbe quindi parte della cerchia delle sue conoscenze. L'appartamento nel quale Ceriani viveva, un monolocale a pian terreno, non era a suo quadro e sulla porta d'ingresso, trovata chiusa dall'interno, non c'erano segni di effrazione. L'ipotesi è quindi che il pensionato, se ucciso, abbia aperto il suo assassino oppure chi lo avrebbe aggredito potrebbe essere entrato scavalcando la recinzione del giardino. Lei non ha sentito, ho visto niente di strano ieri. Io ero a casa, dormivo, perciò non... appunto mi sono alzato, mia moglie mi ha detto che avesse i carabinieri e l'autombulanza e quindi mi sono alzato, ma non sapevo assolutamente appunto... Questo a che ora, ieri più o meno? Verso le... mia moglie era entrata alle 5 e mezza e mi ha detto che c'erano già quei carabinieri, perciò non sapevo che... Non so cosa è successo, dicono che le ha messo dell'acido, l'hanno ammazzato, non so... Chi lo dice? Ma non so, io ho sentito qualcuno che me l'ha detto così, non so com'è. Marco Ceriani, affetto da disabilità, riceveva ogni giorno il passo dal comune dei Bieti Grasso. Lunedì però il sacchetto è stato ritrovato dagli operatori ancora appeso alla cancellata, dopo diverse ore, e ciò ha fatto scattare l'allarme. Io so che ieri mattina, di solito lui metteva fuori il cestino, le portavano da mangiare. Ieri mattina invece a mezzogiorno il cestino era attaccato qua, non c'era più fuori il cestino. Quindi non era venuto a prenderlo, quindi probabilmente ieri mattina era già morto? Sì, sì, sì. La procura di Pavia, guidata da Gustavo Cioppa, sta ora cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo. Marco Ceriani usava attaccare sulla sua porta d'ingresso peluche e soprattutto aforismi. L'ultimo, appeso qualche giorno prima di morire, risuona oggi come un triste presagio.